Dopo otto anni e oltre cento riunioni, il tedesco Wolfgang Schäuble ha detto addio all'Eurogruppo e lo ha fatto presentandosi all'ultima riunione con una nuova proposta per il futuro della zona euro, in cui immagina di togliere il potere di sorvegliare i bilanci alla Commissione europea, diventata troppo morbida, per assegnarlo ad un fondo salva stati controllato dagli stati membri. I poteri della Commissione sui bilanci sono scritti nei trattati, dobbiamo evitare doppioni di ruoli, ha detto il commissario Pierre Moscovici, difendendo la sua istituzione.